in prima pagina un po' dappertutto, qui lo vediamo con Tina Cipollari Tina Cipollari e Claudio Baglioni che forse devono dare un po' la rivederci al loro rapporto poi c'è questo cast Sanremese particolare, qui vediamo in copertina su cavallo c'è Enzo Avitabile, questo probabilmente è come lui farà ingresso sul palcoscenico e poi c'è la notizia forse più inaspettata qual è? bianco appunto per essere